Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online A cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Stamattina mi sono alzato tanto tranquillo, ho accompagnato le mie figlie a scuola, mi sono preso un bel caffè e poi sono venuto qui a studio per registrare la puntata di oggi ma chi ti vado a beccare 5 operai che intorno al mio studio stanno rifacendo la terrazza e quindi stanno lì con picconi, martelli, demolitori, mazzette, cose di questo tipo quindi non vi spaventate, sentirete qualche botto perché ho aspettato la pausa pranzo ma niente, sembra che non ci vadano proprio a mangiare e allora a noi non ci ferma nessuno perché siamo talmente appassionati di digital ma soprattutto di scoprire come il digital può essere un supporto per lo sviluppo del nostro business che non ci fermiamo neanche davanti alla mazzetta e al martello demolitore e parliamo oggi di un'idea di business molto interessante che una di voi ascoltatrici Alessandra Ferrera mi ha condiviso attraverso il nostro canale Telegram chiedendomi un parere prima di ascoltare dalla viva voce di Alessandra la sua domanda voglio ricordarvi che abbiamo un filo diretto qua non è la televisione dove devi stare lì a guardare in silenzio qua possiamo interagire in maniera diretta tramite Telegram telegram.me slash Giulio Gaudiano è il canale diretto col quale puoi mandare le tue domande col quale possiamo conoscerci ogni tanto qualcuno si spaventa quando gli risponde ma che mi risponde? certo mi hai scritto ragazzi il digitale è questo il bello connette le persone allora connettiamoci scrivetemi tranquillamente le vostre domande i vostri dubbi su telegram.me slash Giulio Gaudiano ma ora bando alle ciance è arrivato il momento di ascoltare la domanda di Alessandra a proposito di un sito web per imparare a parlare le lingue ciao Giulio mi chiamo Alessandra è un po' di tempo che ascolto il tuo podcast strategia digitale e lo trovo molto interessante pieno di spunti per questo ti ringrazio molto e volevo chiederti una cosa sono una persona molto eclettica faccio tante cose principalmente lavoro come impiegata e come insegnante di inglese ai bambini piccoli anche come traduttrice diciamo non ufficiale perché ho lavorato per fare i progetti a livello di volontariato sottotitolando video, telefilm per lo più di origine orientale coreana, giapponese dall'inglese all'italiano ora ho tante idee e quella di cui ti volevo parlare in questo momento riguarda il rendere in italiano dei siti inglesi cioè ci sono tanti siti inglesi che parlano di come imparare le lingue fantastici uno in particolare ma ce ne sono veramente tanti una miriade di possibilità questi siti però insegnano a imparare le lingue da autodidatta ma sono scritti in inglese e molte persone italiane difficilmente possono sfruttarli allora pensavo di fare una cosa tipo quella di cui avevi parlato alcune puntate fa quindi una specie di RSS l'avevi chiamato mi pare e cioè portare avanti questi articoli importare questi articoli su un sito mio fare la versione tradotta in italiano ovviamente con il link alla versione inglese e tante volte in questi articoli ci sono pure dei video quindi di fare anche una versione con i sottotitoli in italiano non so se questa è una cosa fattibile non saprei neppure come muovermi se chiedere per esempio il consenso alle persone che scrivono originariamente questi articoli e neppure come impostare il sito se fare o meno un piano di marketing ad esempio cioè da considerare che credo cioè che questo sito nascerebbe per dare un aiuto agli altri non so se potrebbe essere qualcosa su cui in prospettiva potrei guadagnare ecco insomma questi sono i miei dubbi grazie mille della possibilità che mi dai e del fatto che mi ascolti e ti auguro una buona giornata ma buona giornata anche a te Alessandra e grazie a te per la tua domanda e anche per i complimenti che hai fatto a me ma li giro subito anche al mio staff a coloro che creano insieme a me strategia digitale allora la domanda è interessante l'idea di business che hai avuto è molto carina diciamo che fondamentalmente andare a vedere l'universo di contenuti siti web applicazioni in inglese e crearne una versione in italiano è comunque una smart move una mossa vincente in questo caso perché? perché fondamentalmente noi abbiamo il vantaggio cioè in realtà sarebbe uno svantaggio ma diventa un vantaggio dal punto di vista del business abbiamo lo svantaggio di essere una colonia culturale soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del digital degli Stati Uniti e in particolare una colonia culturale barra linguistica del mondo che parla inglese io questo lo vedo in maniera evidentissima quando sto in Australia o comunque avendo accesso a contenuti in inglese fondamentalmente tutta la mia famiglia le mie figlie guardano cartone in inglese io e mia moglie guardiamo la televisione in inglese e quando hai accesso a contenuti format programmi televisivi serie tv in inglese sei in qualche modo proiettato nel futuro cioè almeno di sei mesi prima infatti escono prima le serie tv in inglese poi quando magari ne parliamo con gli amici oh hai vista questa serie no no non l'ho vista ma che serie è e poi magari sei mesi dopo esce eppure loro se la vedono ecco questo nell'ambito del business soprattutto per quanto riguarda il mondo del digitale è particolarmente evidente tutto arriva prima nell'universo inglese chiamiamolo così diciamo delle nazioni che parlano inglese e arriva dopo da noi quindi quando uno vuole di base così a mani basse giocare d'anticipo va a vedere qualcosa che ha funzionato nel contesto per esempio americano e lo replica in italiano quindi di per sé il meccanismo è buono quello che non è buono almeno così come l'hai pensato tu è il fatto di creare qualcosa ti sei riferito all'RSS per esempio per importare i contenuti e trasformarli in un'altra lingua è fare di qualcosa di diciamo di semi automatico o pedisseguamente ricavato dalla versione inglese di questi di questi siti da questi siti che ti piacciono per imparare le lingue ecco questo te lo sconsiglio subito non iniziare il tuo progetto pensando di fare una traduzione o una localizzazione di qualcos'altro perché? perché non è detto che ciò che funziona negli Stati Uniti o ciò che funziona nell'universo che parla inglese funzioni anche in Italia quello che è necessario fare quando vai a fare una un'operazione di import del business dal contesto anglosassone al contesto italiano è trasformarlo cioè prendere una forte ispirazione dal modello anglosassone ma trasformarlo per la cultura italiana perché grazie a Dio una specificità della nostra cultura è che funziona in maniera diversa da quella anglosassone abbiamo visto qui è molto più difficile fare determinate cose che funzionano nel mondo anglosassone perché le persone hanno un modo diverso di ragionare a me in particolare ti posso dire che questo modo piace molto o piace molto la diversità culturale che c'è tra questi due universi quindi lingua diversa cultura diversa mercato diverso e quindi necessità di fare business diversi di adattarli quindi primo consiglio è crea prendi forte ispirazione ma crea qualcosa di nuovo non fare la traduzione o l'adattamento o la localizzazione ecco devi fare una vera e propria localizzazione quella mia collega Sara Bologna mi direbbe mi correggerebbe mi direbbe ma quello di cui stai parlando è proprio una localizzazione di business esatto una localizzazione di business cioè prendere qualcosa che funziona in un contesto e fare in modo che funzioni anche in un altro contesto magari trasformandola prendendola solo come spunto il secondo consiglio che ti do il secondo punto caldo secondo me del ragionamento è il fatto che tu stai dando accesso in fondo io pure ho visto come ci sono tantissime risorse per imparare tutte le lingue con anche delle impostazioni estremamente innovative a partire dall'inglese ma in italiano quindi puoi imparare il giapponese dall'inglese il cinese dall'inglese io pure ho studiato cinese ho fatto un corso di base di cinese a partire dall'inglese non ho trovato l'analogo di questo corso online in italiano sarebbe stato molto più difficile trovarlo allora tu stai dando accesso perché consenti da una lingua all'altra di avere accesso a delle risorse in questo caso proprio per imparare le lingue ma non ti focalizzare solo sull'aspetto linguistico cerca di immaginare questo dare accesso non solo come dare accesso a coloro che parlano italiano a contenuti a servizi che sono accessibili solo a coloro che parlano inglese ma pensa anche al formato al tipo di contenuto alla piattaforma potresti dare accesso a dei contenuti che esistono solo scritti dagli accessi invece in formato audio quindi consentire l'accesso anche a coloro che non hanno tempo di leggere quindi potresti creare non un blog così come l'hai descritto ma un podcast il che potrebbe aver senso sia per l'audio sia per il video sia per il testo scritto mi ricordo un podcast carinissimo per imparare l'inglese mi pare che si chiama ESL English as Second Language che da tantissimi anni insegna inglese attraverso i podcast quindi quando ti focalizzi sul dare accesso focalizzati non solo sull'aspetto linguistico ma anche su tanti altri aspetti quali potrebbero essere per esempio il formato dei contenuti mi domandi se devi chiedere il permesso beh sicuramente devi chiedere il permesso chiedi il permesso a tutti non ti mettere nella situazione di prendere di violare il copyright cosa che è particolarmente fastidiosa quando si fa si crea un progetto da zero cioè tu fondamentalmente devi costruire delle fondamenta solide e allora devi sicuramente chiedere al sito web dal quale stai traducendo i contenuti soprattutto se devi prendere dei video e sottotitolarli o ridoppiarli in italiano quindi il video è e resta un contenuto protetto da copyright per quanto riguarda il possessore originale dei contenuti ma io ti direi di più il chiedere il permesso a volte ti apre delle possibilità incredibili te lo posso dire per assoluta esperienza personale quando tu vai a chiedere soprattutto nel contesto anglosassone dove c'è una cultura di business differente cioè molte volte quando vai a chiedere qualcosa a un sito web italiano nicchiano ma non lo so vediamo ma cosa ci guadagna c'è più diffidenza io quando con partner anglosassone diciamo soprattutto australiani ho chiesto delle informazioni dei permessi di fare qualcosa sempre ne sono uscite tiè opportunità di business mi hanno detto se vuoi fare questa cosa facciamolo insieme diventa il nostro partner ti diamo ancora più supporto di quello che ci hai chiesto quindi chiedere il permesso non sarebbe solo un permesso mettiti nell'ottica di ragionare su come fare business insieme tu hai la presenza nel mercato linguistico loro hanno il contenuto ecco proponiti come facciamolo insieme vediamo se possiamo farlo insieme io vorrei fare questo con i vostri contenuti che mi piacciono come possiamo aiutarci l'un l'altro questo è il mio terzo consiglio il quarto consiglio che ti do è studia bene il modello di business perché non è che se stai facendo questa cosa per aiutare gli altri allora non devi avere un modello di business comunque devi avere un modello di business sempre devi avere un modello di business se non hai un modello di business non funziona non è che ti puoi nascondere dietro il fatto che dici vabbè lo faccio così come un hobby o lo faccio così per aiutare gli altri ok ma ce l'hai un modello di business cioè il tuo aiutare gli altri ha dietro un modello di business ha un modo di rendersi sostenibile se no sei affidata la tua buona volontà del momento appena ti passa la buona volontà hai sprecato tempo e denaro in un progetto che va andrà deragliando allora definisci un modello di business come vuoi campare come vuoi rendere sostenibile il tuo progetto non è necessario che tu sia assetata di un folle profitto non sto dicendo questo sto dicendo che sia per il profitto sia che sia for profit sia che sia no profit il tuo progetto deve essere sostenibile e allora qual è il modello col quale lo rendi sostenibile lo rendi sostenibile con la pubblicità mettiamo o lo rendi sostenibile secondo un modello freemium quindi con una parte dei contenuti gratuiti e un'integrazione un potenziamento un upgrade con la possibilità di avere dei contenuti a pagamento oppure magari hai un modello che è il crowdfunding io utilizzo il crowdfunding per strategia digitale lo sai se vai su youmediaweb.com slash finanzia puoi finanziare il mio podcast hai libero accesso al mio contenuto ma ci sono dei pazzi che finanziano il podcast siamo arrivati quasi a mille dollari al mese con mille dollari al mese di persone che nonostante hanno accesso al contenuto credono e trovano valore in quello che che ascoltano e quindi ci credono in questo progetto ne vogliono fare parte e lo finanziano e diventano parte di un progetto questo anche è un modello di business il crowdfunding un modello basato sulla sharing economy estremamente innovativo e ti devo dire elettrizzante perché non c'è nulla che ti può dare un'emozione forte un senso di partecipazione un senso di un senso a quello che fai perché vedi che è importante anche per gli altri non c'è nulla che lo può fare proprio come lo fa il crowdfunding perché senti che non stai facendo le cose per venderle agli altri ma stai facendo le cose per gli altri e gli altri li apprezzano tanto da mettersi in gioco economicamente dando una risposta a quello che fai allora trova il tuo modello trova il modello di business per sostenere il tuo progetto e poi sarà un secondo passo quello di capire se devi fare del profitto o non devi fare del profitto l'ultimo consiglio che ti do è prendi questa cosa seriamente e crea qualcosa di originale e unico cioè crea una value proposition per quello che stai facendo non ti limitare a osservare qualcosa che funziona e a riprodurla e importarla nel tuo contesto culturale cerca di costruire il tuo business da zero e di focalizzarti sulla value proposition se non sai che cos'è il value proposition design vai a cercare nel podcast indietro troverai un episodio dove parlo di un framework creato da Alexander Osterwalden per disegnare in maniera semplice la value proposition cioè il valore che avrà il tuo progetto quello che farà iscrivere le persone che ti seguiranno quello che renderà il marketing perché mi chiedevi del piano marketing un aiuto importante ma non un aiuto senza il quale le persone non parleranno del tuo progetto renderà il tuo progetto unico interessante di valore tanto che le persone il dialogo tra le persone la condivisione del valore sarà il primario mezzo di trasmissione di conoscenza e di arrivo sul tuo progetto sul quale potrai decidere e senz'altro è il caso di farlo di strutturare un'amplificazione attraverso il marketing il marketing è sempre un moltiplicatore ma un moltiplicatore del valore che tu metterai nel tuo progetto questo è il mio ultimo consiglio riepilogo i miei consigli allora il primo è di non limitarti a tradurre un progetto nella lingua italiana ma localizza il business fai una localizzazione del business il secondo consiglio è focalizzati sul dare accesso il terzo è trova un modello di business il quarto è chiedi il permesso ma approcciati al chiedere il permesso cercando di fare business insieme a queste persone e il quinto è focalizzati sul valore cerca una proposizione di valore unica per il tuo progetto per fare in modo che il marketing venga in qualche modo da sé siamo arrivati alla fine della nostra puntata io ringrazio tantissimo Alessandra per questa sua domanda gli faccio in bocca al lupo per il suo progetto naturalmente Alessandra se hai del feedback è sempre benvenuto quindi sai che il canale è aperto attraverso Telegram ce l'abbiamo io sono qui per voi ragazzi mandate le vostre domande io voglio ringraziare coloro che sono il modello di business di strategia digitale i finanziatori coloro che decidono ogni mese liberamente di rendere unico questo progetto in Italia perché sapete questo è il podcast più finanziato d'Italia incredibile vero sto parlando di Denise Calzolari New Entry WPOK Francesca Traverso Roberta Andreoni Matteo Neroni Franco Nicosia Fabrizio Guidi Marzia Tomasin Paolo Pugni Beatrice Biasuzzi Nicolò Ravanelli Federico Issi Cristian Manganelli Davide Brenna Enrico Girotti Vittorio Neri Andrea Della Via Alessio Casarolli Fulvio Iulita Agatamato Jacopo Livia Olio Poldo Antonino Cotroneo Paolo Gollo Massimiliano Berto Rosario Rizzo Stefano 2.0 Erika Vagliengo Silvia Zeta Mariano Lampis Gianluca Gorlani Mauro Arizzo Lorenzo Mari Rodolfo Monacelli Max Saggia Pillolitecnologia.it Marco Paolini Marco Basso Daniele Risi e tantissimi altri vedo ora Eric Scamporlino che non avevo ringraziato altri finanziatori che anche solo con un dollaro al mese finanziano questo podcast e partecipano ad esso essendo veri e propri finanziatori crowdfunder di questa iniziativa di divulgazione digitale il mio grazie va anche a Sara Veltri coautrice del podcast al nostro fonico Costanza Mineo a Radiospeaker.it curatore del nostro sound design e agli operai che stanno qui fuori e che appena iniziano a parlare si sono fermati con le loro bazzette grazie mille anche a loro un caro saluto a tutti e ci vediamo online strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie a tutti